Per iniziare questa conversazione io mi rifaccio a una metafora che ha usato poco fa Alberto Gentili, collega del messaggero che ci aiuterà in questa conversazione e ragionava un po' così. Luigi Di Maio chiede un atto d'amore al Partito Democratico e chiede Partito Democratico votaci la nostra riforma del taglio dei parlamentari. Il Partito Democratico non è disposto a fare quell'atto di amore nei riguardi del Movimento 5 Stelle di Di Maio. Non per adesso almeno. Non per adesso ma, e lo leggiamo dai giornali di oggi, il Partito Democratico dice da tanti esponenti noi dialogheremmo con il Movimento 5 Stelle se Di Maio facesse un passo indietro che è un po' quello che chiede anche Grillo quando dice possiamo ragionare col PD purché non ci sia Renzi. Come si fa a comporre questo cubo di Rubik se è possibile comporlo? Io invece ritengo che la metafora non sia totalmente corretta. Noi non crediamo un atto d'amore al Partito Democratico, chiediamo un atto di coerenza alla Lega che ha votato con noi per tre volte il taglio del numero dei parlamentari. Mi ricordo le parole festeggianti del Presidente Calderoli quando alla terza lettura ha detto finalmente questo governo porterà a casa una cosa che io chiedo da vent'anni. e oggi invece cambia idea e decide di non votare il taglio dei numeri parlamentari. Io credo che tutta l'analisi di quello che sta succedendo non può prescindere da un fatto, da un elemento, cioè di come è nata e quando è nata questa crisi. Nasce ad agosto, inoltrato, il 9 di agosto, dopo che nella stessa settimana, cioè noi parliamo di quanto è accaduto mercoledì scorso, meno di una settimana fa, questo governo ha ricevuto la fiducia al Senato sul decreto sicurezza bis, senza alcun problema, e dopodiché si apre una crisi a camere chiuse. Ora, bisogna chiedersi come mai è nata adesso, qual è il disegno, e quindi conseguentemente analizzare i dati rispetto a questo elemento forte. Io credo che la questione del taglio dei numeri parlamentari sia l'unico reale motivo per cui si è aperta la crisi a camere chiuse in agosto. Allora, lei diceva, noi chiediamo un atto di coerenza alla Lega, non un atto d'amore al Partito Democratico. Visto che oggi si rievocano antiche pagine del manifesto, bacciamo il rospo ai tempi di Dini, ci è venuta in mente questa testata del manifesto, 1983. Allora si diceva, non moriremo democristiani, visto che la Lega vi ha sostanzialmente sfiduciato il governo. Meglio morire salviniani che morire renziani? Ma non siamo mai stati salviniani e non saremo certamente renziani. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato elettorale altissimo nel marzo del 2018, non risultando però autonomo nel poter governare il Paese. È ovvio quindi che si è posto il tema di cosa fare per il bene del Paese. Ne è uscito un contratto di governo con una forza politica, e sulla base di quel contratto di governo abbiamo governato assieme fino a oggi sostanzialmente. Alberto Gentili, una domanda per Patuanelli. Io ho l'impressione che questo è più un'analisi, cioè che chi tira fuori Renzi, il nome di Renzi, chi fa una questione nominalistica lo fa per evitare che si possa andare avanti sulla strada di un accordo tra 5 Stelle, PD, più Europa, l'EU. Non stiamo parlando di un inciucio tra i due partiti, sarebbe una cosa più ampia. Anche perché, e poi lo chiedo a Patuanelli, io credo che dietro a questa ipotesi di governo di legislatura non ci sia solo l'istinto di sopravvivenza dei senatori e dei deputati che vogliono mantenersi lo stipendio, e quindi l'istinto di sopravvivenza di una nomenclatura. C'è anche il timore che nel 2022 una maggioranza formata da Salvini e la Meloni possa eleggersi da sola il capo dello Stato, perché io ancora voglio vederlo, il contratto firmato da Salvini a Berlusconi in cui gli garantisce i posti di lista, perché con questo contratto Salvini, la torta che si poteva mangiare da sola insieme a Meloni, se la deve mangiare insieme anche a Berlusconi, in termini di posti di eventuale nuovo governo, in termini di parlamentari, là la partita vera è la collocazione internazionale di questo Paese. Cioè se vince Salvini e Meloni rischiamo, ed è credo anche forse la vera loro motivazione, quella del PD, di trovarci fuori dall'Unione Europea. Rischiamo di far saltare una costruzione che ha portato pace e benessere a questo continente. Allora, Patuanelli, di fatto con la sfiducia a Conte si è disgregato il quadro politico attuale. Non a caso Gentili rievoca il centrodestra Salvini, Meloni, Berlusconi. Dopodiché oggi alle 18 al Senato ci sarà un voto sul calendario, nel quale con buone probabilità si materializzerà una nuova maggioranza costituita da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e l'EU. È una nuova maggioranza solo sul calendario o può essere il germe di qualcosa che feconda qualche cosa? Non è proprio una maggioranza o una nuova maggioranza. Oggi votiamo una cosa molto banale, cioè decidere quando Conte viene in aula a riferire o se invece deve venire per affrontare una mozione di sfiducia. Io credo, rispetto a questa cosa del calendario, se ne è parlato anche troppo e in realtà non credo che abbia questa grande importanza né per il Paese, né per i cittadini che ci ascoltano, né dal punto di vista politico. Se dobbiamo parlare di maggioranza allora era più importante quella che si è formata contro il contratto di governo sul TAV mercoledì scorso del Senato dove Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Partito Democratico hanno votato compattamente a favore dell'opera così com'è mentre nel contratto di governo c'era scritto chiaramente che andava ridiscussa. Noi non abbiamo fatto un problema politico allora e non abbiamo detto che per quel motivo doveva accadere il governo quindi tutto quello che si sta discutendo sul calendario lo trovo di scarso interesse. Allora provo a dargli un altro assist perché adesso da una nota dell'Agi scopriamo che Conte si recherà in aula a riferire, quindi dare le sue comunicazioni anche nel caso in cui i ministri della Lega decidessero e pare che ci siano le lettere già pronte per essere spedite nel pomeriggio decidessero di dimettersi dal governo Conte. A quel punto Conte parlerà all'Aula, constaterà di non avere più una maggioranza salirà al Colle e Colle inizierà le consultazioni. Il suo messaggio da capogruppo del Movimento 5 Stelle al Quirinale sarà Bene, l'esperienza di governo è finita, andiamo a votare. Beh, guardi, quello che succederà poi con le consultazioni è ovvio che lo vedremo nelle prossime ore quando saremo chiamati ad andare dal Presidente della Repubblica. Anche su questo fronte la gestione di qualsiasi crisi ha come attore principale il Presidente della Repubblica perché questo che la Costituzione dice è col massimo rispetto noi aspettiamo anche quello che dirà il Presidente della Repubblica. Però il problema è che il Presidente della Repubblica non è che dirà il Presidente della Repubblica vuole ascoltare. Beh, certamente ascolterà. Cioè, le consultazioni sono fatte perché il Presidente della Repubblica accolga le indicazioni dei partiti per formare o meno un governo. Non sarà il Presidente della Repubblica. E poi trarrà le conclusioni delle cose che diremo. È chiaro che non potete pensare che noi anticipiamo l'amistuto televisivo. Però il nostro mistero è fare le domande e fare le domande. Ieri da qui. Cioè, se qualcuno... La cosa... Rispetto, chiedo scusa se mi permette di interrompere. Sulla questione delle dimissioni dei Ministri della Lega ricordo che perché diventino efficaci ci deve essere anche un decreto del Presidente della Repubblica. Quindi le dimissioni sono un atto che non ha incidenza diretta. Il Governo rimane con degli interim che verranno presi dal Presidente del Consiglio. Sì, queste cose le facevano uscire ieri Palazzo Ghigi. Ieri sera dicevano, non cambia nulla. Ci sarà il dibattito, come diceva il capogruppo Patonelli. Riguardo al Quirinale, era curioso che ieri e anche nei giorni scorsi tutti si rivolgessero alla saggezza di Mattarella. Lo ha fatto Salvini, lo ha fatto Di Maio, lo ha fatto Zingaretti. Insomma, lo fanno tutti. Ecco, però, il copione che si aspettano i partiti... Anzi, direi che questo è solo un modo per prendere tempo. Perché lo sanno benissimo questi signori che Mattarella Mattarella non è Giorgio Napolitano, non è Oscar Luigi Scalfaro. Mattarella ha un'impronta neutrale d'arbitro, quasi notarile. Non è un interventista, un protagonista. Quei signori hanno creato governi del Presidente. Mattarella non lavorerà a un governo del Presidente. Chiederà indicazioni ai partiti e sulla base delle indicazioni ai partiti farà le sue scelte. e questo è un'impronta LA quindi Потом hanno creato E qui devi trovare le scelte.